Passo decisivo verso la salvezza per la Fidelissandria che al Degli Ulivi supera una zero lacraga a sfanalino di coda del campionato in una partita dominata per oltre 85 minuti dai biancoazzurri. Nel finale l'espulsione di Cegli ha dato solo un leggero brivido ai tifosi andriesi. Papagni conferma il 3-5-2, recupera in extremis Abruzzese, Lancini e Taurino. Out Mauro Antonio tra i pali spazio a Cilli, in mediana rientrano Piccini e Longo, Tiritiello passa a destra. In avanti al fianco proprio del recuperato Taurino c'è Lattanzio. Cambia molto anche Criaco rispetto alla sfida casalinga contro la Virtus Francavilla, chance per Caternicchi e Saitte in mediana. In avanti linea di taccoppia Camarà-Moreo. Parte con il piede sull'acceleratore la Fideliss che si rende pericolosa al secondo minuto. Azione dalla destra di Taurino e sponda di Lattanzio per Piccini che calcia dal limite. Lomonaco si rifugia in angolo. Quattro minuti più tardi cross dalla sinistra di Lancini e colpo di testa di Lattanzio. Lomonaco blocca senza difficoltà. Al decimo invece Ciprova-Tiritiello dai 25 metri. L'estremo difensore siciliano blocca in due tempi. La Fideliss è padrona del campo e al diciannovesimo va vicinissima al vantaggio. Cross dalla sinistra di Lancini e conclusione volante di Longo che si infrange sulla traversa. Poi il colpo di testa di Piccini viene deviato in angolo. Il meritato gol della Fideliss arriva comunque al ventisettesimo. Calcio di punizione dalla sinistra e colpo di testa vincente di Danilo Colella che insacca l'angolino della porta difesa da Lomonaco. Prima rete stagionale per il centrale bianco-azzurro. La reazione dell'Akragas è pressoché immediata con la conclusione dal limite di Camarà. Cilli blocca in due tempi. Landria però continua a spingere al 35esimo Taurino ben servito da Longo. Calcia un preciso rasoterra che chiama all'ennesimo intervento Lomonaco. Si va a riposo con la Fideliss avanti 1-0. Nella ripresa la storia non cambia ed è sempre la squadra di Papagni in proiezione offensiva. Al 48esimo la palla del raddoppio capita sui piedi di Lattanzio che perde il tempo della conclusione e poi calcia centralmente. Lomonaco respinge come può. Al 53esimo, quinto su punizione, serve al centro ancora Lattanzio che calcia a botta sicura. Il portiere siciliano si distende e devia in angolo. Papagni vuole il raddoppio e cambia in attacco inserendo Scaringella e Nadarevic per Lattanzio e Taurino. Al 60esimo Longo serve al centro dell'area Celli che però non inquadra lo specchio della porta. Il match cala d'intensità con il passare dei minuti e i bianco-azzuri gestiscono con poche difficoltà il prezioso vantaggio. Ma all'86esimo la Fidelis riesce nel compito di complicarsi la vita. Svarione difensivo da Macco si invola verso la porta e viene falciato da Celli al limite dell'aria. Espulsione per il centrale difensivo e Andria costretta a difendere in dieci nel finale di gara. L'Akragas però non riesce a pungere al triplice fischio e festa per la Fidelis. Che scavalca in classifica la regina e con questi tre punti pesantissimi vede sempre più vicina la salvezza.